Un'auto uscita di strada nella mattinata di domenica 10 luglio è terminato la soccorsa giù per una starpata. È accaduto poco prima delle 10 in frazione Ronchi e Cornier. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che dopo le prime cure hanno trasportato la donna che era al volante della Fiat Punto al piazzale del Ponte Vecchio dove ad attendere i cellali di soccorso del 118 e la polizia locale che ha ritrasportato la donna ferita all'ospedale CTO. Alla base dell'incidente potrebbe esserci stato un malore alla vita, sono in corso l'accertamento. Alla base dell'incidente potrebbe esserci stato un malore alla fine, sono in corso l'accertamento. Alla base dell'incidente potrebbe esserci stato un malore alla fine, sono in corso l'accertamento.